Capita a questa persona, Matteo, di avere una folgorazione, un'illuminazione per una persona. Il problema è che è quello che sta intorno a lui che deve adattarsi a questa nuova situazione, questa nuova condizione, questa illuminazione, sia una cosa che potrebbe succedere veramente a chiunque. E mi piace pensare che questo sia possibile. Questo film parla di potenza emotiva e parla di sessualità articolate, complesse. Non mi piace il termine diverso perché tutto è diverso, perché ogni essere umano è diverso. E credo che il cinema abbia il dovere, abbia ancora il dovere, debba porsi comunque l'ambizione di interagire con il tessuto sociale. Io faccio Sherry nel film che è una giornalista che inizia questa fatidica vacanza che secondo lei dovrà essere stupenda. Lei ogni tanto osserve, si vedono dei pensieri e si dice ma lei ha capito, ma non vuole vedere, non vuole entrare, pensa che non è possibile, che non può capitare a lei, che il suo amico Matteo non può essere così. Sul discorso dell'omosessualità sai, essendoci stata anche dentro alla storia, in realtà io non lo penso omosessuale. Quindi ogni volta che sento la parola mi dico, ah sì è vero, c'è un amore proprio uomini. Io mi aspettavo che andasse bene, ero abbastanza certa, perfino a me è piaciuto, quindi sono venuta contenta. Però questa cosa che è avvenuta, così di sentirsi anche in simpatia forte, nel vero senso etimologico della parola, con tutta la platea, è stata notevole.